Signori miei, si chiude qua il primo atto, anzi la prima metà del primo atto di questa nostra avventura in Europa League è andata come volevamo andasse sinceramente, ovvero chiudere virtualmente la qualificazione nella gara di andata per poi andare laggiù la prossima settimana e di sicuro rifiatare in maniera abbastanza ampia Detto questo ragazzi ci sono delle cose che vanno corrette, che vanno riviste, che bisogna migliorare però ovviamente davanti a un 3-0 sarebbe anche, diciamo, irrispettoso parlare di prestazioni mediocre quindi non è assolutamente questo che voglio fare Il Milan gioca contro una squadra che secondo me, cioè, io non voglio essere offensivo, non voglio essere cattivo ma una squadra che veramente non ha né arte né parte perché a me questi, oltre che pena, non mi facevano provare niente era una squadra che magari le idee, il gioco ce l'aveva però una squadra con un portiere 39enne ridotta così non è che mi aspettassi chissà cosa sebbene però era una squadra che se è arrivata lì un motivo c'è e bisognava anche prendere le adeguate misure Spareggi d'Europa League che vanno nettamente per ora meglio rispetto a quelli che furono i sedicesimi tre stagioni fa ormai quando con la Stella Rossa si passò per la differenza scusate, con i gol segnati in trasferta infatti poi si vide contro i magi inserionati della fine che abbiamo fatto questa volta la squadra è più forte il gruppo è più unito e sicuramente almeno quei si spareggi il Milan a mio modesto parere a ora modo di passarli con più facilità arriviamo alla partita partita che per 30 minuti vede un Milan come al solito frustrante perché i primi 30 minuti il Milan poteva, doveva fare gol ha avuto diverse occasioni che sono state vanificate per cagate perché questo questo è stato però poi i gol arrivano i gol sapevamo che sarebbero arrivati infatti poi sono arrivati è arrivato soprattutto un giocatore chiamato Love to Chick eh ma Tonali eh ma Tonali 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 tutta un'altra cosa io non voglio sminuire Tonali che per tre stagioni soprattutto due di queste tre ma soprattutto quella dello scudetto è stato non determinante di più però qua ci troviamo davanti a un altro giocatore con un altro tasso di esperienza che gioca anche in un'altra posizione quindi è un giocatore anche diciamo leggermente diverso però è un giocatore che io ho sempre detto dal giorno che ha messo piede a Milano che infortuni a parte è una macchina da guerra Love to Chick perché è una macchina da guerra e l'ultimo mese lo ha ampiamente dimostrato con ben sei gol ora se non valerà eh sì perché uno all'Empoli uno all'Udinese due al Bologna e due stasera sono sei gol in un mese dieci giorni capite bene che per un centrocampista sono numeri forse alla Bellingham perché forse in un periodo più breve di tempo così breve di tempo centrocampisti che hanno segnato più di lui Bellingham vogliono metterci ciò no ce lo mettiamo ma togliete i rigori perché senza rigori si parla di altri numeri voltando pagina ragazzi e tornando a noi il primo gol segna un gol a vederlo banale ma banalizzarlo della madonna intanto Florenzi che becca un cross io dico sempre che magari non ha la tenuta fisica di Calabria ma a livello di tecnica Calabria in confronto al giocatore di di badminton spizza questa palla più che altro è una palla che deriva dal dietro c'è anche una palla che gli arriva da davanti laterale proprio dal dietro gli arriva riesce a spizzarla col portiere completamente piazzato e a casa mia questo è un gran gol il primo gol di Otus Cic ragazzi a casa mia è un gran gol il secondo arriva finalmente da un calcio d'angolo sfruttato dove semplicemente gli basta attaccare lo spazio e buttare la palla in porta considerato ciò che ha fatto un quarto d'ora prima è un gioco da ragazzi per lui 3-0 si quasi ripete al contrario ciò che abbiamo visto contro il Napoli domenica scambio Ternandes Leao questa volta è il 19 che fa l'assist al numero 10 che torna al gol dopo praticamente un mese perché dalla partita con l'Atalanta e si era un mese fa perché era circa il 10 di gennaio e mette a segno il gol del 3-0 Milan che poi ha modo mezzi e forse ha anche voglia di giocare di giocarsi un 4-0 perché Milan secondo me il 4-0 poteva farlo praticamente in ciabatte non lo fa perché la squadra stanca i cambi cose varie più che altro è un gol che come ho detto in live avrebbe fatto comodo ora fosse una partita di campionato vi direi sti cazzi però comunque in queste partite dove non contano i punti ma contano i gol come si dice sempre fare un gol in più dell'avversario in questi casi conta fino a un certo punto qua devi fare parecchi gol più dell'avversario Pioli che i cambi più che altro erano cambi di gestione questi non è che fossero cambi dove bisognava metterci dell'intelletto assoluto erano dei cambi dove serviva la gestione mette Benazèr mette Terracciano mette Ciao a rientro dall'infortunio che tra l'altro ha anche un paio di interventi difensivi abbastanza importanti li fa Metadli che fa a centrocampo diciamo un unico rimpianto io avrei messo Jovic almeno una mezz'ora che questo ha veramente fame di gol però del resto è andato a finire bene lo stesso quindi sti cazzi Ren che crea si rende pericoloso in maniera veramente limitata cioè secondo me nel mio modesto punto di vista si sono ampiamente meditati di terminare questa partita senza neanche un gol segnato sapete che sono la persona più obiettiva la persona più giusta su questa piattaforma e quando dico che gli altri meritano non solo di fare un gol ma di vincere sono il primo a dirlo perché quando devo bastare la mia squadra non mi tiro indietro oggi ragazzi Milan ha meritato di non prendere gol il Ren ha meritato di non segnarne neanche uno e adesso si trasla tutto alla sfida di ritorno dove un turnover Okafor Jovic Cukueze che sicuramente sarà disponibile un Musa ancora una volta benvenuti un Ginkimenez uno sportiello pure secondo me sono benvenuti in una partita così ovviamente Milan non dovrà abbassare la guardia perché comunque ci sono altri 100 minuti tra primo e secondo tempo da giocare ma sicuramente possiamo andarla ad affrontare con una mentalità totalmente diversa anche perché poi abbiamo Atalanta e Lazio e quindi bisogna evitare di fare sforzi in una partita in un confronto che proprio a dirla tutta è non dico vinto ma manca veramente siamo al 99% ecco detto questo ragazzi domani mattina uscirà la reaction solita che adesso mi metterò lì e statemi bene da dire tutto un bacione alla prossima sempre forza mila